Dove siamo Antonio? Siamo in fondo a via Nazario Sauro, esattamente nel punto dove fino al 1943 esisteva la porta del Poggiale, una delle porte della seconda cerchia di mura distrutta appunto da un bombardamento. Vedete in alto una targa collocata nel 1956 dal Comitato per Bologna e Storia e Artistica che riproduce esattamente la porta distrutta e il dipinto seicentesco collocato sopra. Quindi siamo praticamente all'interno di questa lunga tradizione del Comitato di illustrazioni delle porte della seconda cerchia. Quindi si possono vedere le parole riportate sulla targa in marmo. Qui era nelle mura penultime della città la porta del Poggiale distrutta dai bombardamenti aerei del 2 e del 25 settembre 1943. E viene riportata appunto la descrizione anche della porta. Non era una porta ma era un serragno della precisione. E che praticamente andava a essere situato sulla seconda cerchia muraria che era la cerchia muraria dei Mille di cui parleremo approfonditamente tra poco. si trattava di un arco battuto sesto di mattoni e all'interno sopra si vedeva un affresco della seconda metà fine del 600 di Guaini, un allievo di Carlo Cignani, allievo collaboratore di Carlo Cignani e di Marco Antonio Franceschini citato in tutte le guide distrutto. E l'affresco si vedeva praticamente nella parte all'interno delle mura? All'interno delle mura, certo, all'interno delle mura e l'affresco era già molto deteriorato all'inizio del 200 quando venne scattata la fotografia e poi successivamente distrutto. Successivamente distrutto abbiamo anche una fotografia che mostra le macerie della porta, i dati erano assolutamente recuperabili e la porta non venne ripristinata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.